Ciao miei piccoli anime di Decessi, sono Ade e bentrovati in questo nuovissimo video. Oggi si gioca a Fortnite con altre tre persone, ovvero BigMangu, Samubro e Debbie. Ciao gente! Ciao! Ho BigMangu e l'altro amministratore del gruppo Telegram YouTube, questa si diventa. In descrizione troverete il link. E spero possa piacervi. Stai ricercando la skin adatta? Vuoi fare bella fredda? Sì. Ah, ecco. Ah, sì. E beh, per gli spettatori questo è altro. Tutti con la skin cazzuta, io sono quello con quella generica. Ma vabbè, quella cazzuta, ci devo mettere quella cazzuta. È questa. Eh no. Allora, vediamo se ha messo l'inchi. Anzi, la mano a chi trova inquietante lo sacchiotto rosa. Il sacchiotto rosa? Io, c'ho un creepypasta sullo sacchiotto rosa, e nel mio prossimo video. Dove si va? Allora, andavo a capire. Dove si è diretta a E? Sì. Vabbè, io non ho più la mia assistita, eh. Mi ci trovo meglio. Sì? Sì. Fattivo neve, è un bello lumaca. Scusate, però, oggi c'è una mano mezza ferma. Ci provo? No, 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 no. Grande sound, è veramente... Ok. Vai. Che bello, ho trovato la pistolina. Se ci trovo la pistolina... Un funghetto e una pannocchia. Aia! E dove stai? Cacchio! Già cominciamo. Già cominciamo? Non si inizia male? Sì. No! Madonna, mi succa. Culo! No! No, 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 no. Merda. No, che cazzo faccio? Ma che... Ma che... Che ho fatto? Ci ho appena visto. Niente. Mi volevo fare lo shieldino, ma ho tirato la granata. No, no. C'è una cosa? C'è una cosa? C'è una cosa? C'è una cosa che voglio. Chi è che sta costruendo? C'è una cosa. Sembrava strano, strano. Dai, guarda, c'è tu fucile a pompa. Sì, lo so. Dio. È una... Dio. Guarda, è chiappata la scheda mia. Dai, guarda, è bello. Mamma mia. Quanto ben di Dio. Mi sono vista male. Dai le bande a Samo. No, ho chiuso proprio apposta che è Samo. Dai le bande a Samo che riservano. No, 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 no. Ti spiga. Ah, ci sta la prima partita. Vabbè. Ci prepariamo? Sì, sì, lo mettiamo pronto. Ok. Ma che sto a fare una live oppure un video così e che puoi fare anche tagli? Sì, posso fare anche tagli. Ah, quindi stai facendo così un video? Sì, poi le attese le posso anche togliere. Ah, allora posso. Forse fosse stata una live, quanto meglio. Se non posso ottenere altri balletti, ne faccio uno io, no? Ah, ok. Cavolo, non ho visto se c'era gente. Sì, c'era gente. Ah. Ne ho un po' tanta. Quindi prepariamoci per essere massacrati di nuovo. No, no. Devo subito prendere qualcosa di utile. Mmm, buono. C'è nessuno? Non c'è lui per favore. No, no. No, no. Stavate che c'è lui per favore. Non c'è la comanda. Ne. A picconate. A picconate. Ne. Addio. Ha, ha, ha. Solo che adesso ho bisogno di cucarmi. Ok. Ma sto se lo vedo soltanto io? No, non l'ho preso anch'io. Vabbè. Uh, acma nuova. Acma nuova. C'è nessuno? No. Guardate, amici gente. Dove? Eh, che schifo. Stavo nascosto dentro la monnezza. Ando da pesca. Se venite qua o le splash? Stavo nascosto dentro la monnezza. E' ok. Senta, arriva. Mi sto... Ah, vi raggiunto, vi raggiunto. Ah, puttana, vabbè, come va. Raro, dietro, dietro. Basta, basta. Sì, la pompa blu lascia, vedo. Ovvio. Ho preso quello verde. C'è altra gente armata? Boh. Boh, no, non penso. Vuoi dover qualche cura? Venite, venite, c'ho le splash. Eh, no. Dove? Vieni la benda. Ma questa balestra non serve a un cacchio, quindi la posso anche togliere. Vai. Sicilatevi tutti. Vieni, vieni. Arrivo. Se vuoi le bumper? Oh, no, le bumper. Cazzo, si chiara, non stai. Dì, io sento un'altra ossa. Dove, 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 eccola. E quando mai? Stavo sotto te. Dov'è? Non ci siamo mai. Le granate salva qualcuno. Eh, stai, guarda che mancano 30 secondi alla tempesta, eh. Sì, lo so. Eh, sì, andiamo, andiamo. È quella lontana. Vuoi avere granate? Non posso. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Ah, domolizioni, aspettate. Ah, sì. Ah, mi va. Mi va. Non va? Non va no, sei sull'acqua Ma come sono sull'acqua? Si sa di acqua Si, tanto posso giungere ma che non guarda C'è uno eh, uno eh Chi spaga? Mi piacere dalla macchina Non c'è più benzina tanta Qua sta una tanica eh Che ci fai con la tanica? Riempi la benzina della macchina Vabbè, faccio prima andare a piedi Si un po' Ah si va bene Non vede come il pipo un po' è pesante? Eh no Eh no È la bocca chiusa Oh mio Eh ma che sfiga la La macchina si è fermata laggiù Sì E qua stava un altro distributore Poi Qua c'è un tac blu eh Non c'è Ve lo puoi dare a me quello blu? Da te ce n'è due No No Eh mi sa che l'ha preso Un attimo Aspetta lo lascio Ok Eh va Ok fatto Vai A posto? Che c'è? Scusa Come l'hai da qua lì? Lascia i piedi Eh Barca Eh Che succede amico? Che succede da me? Che succede da me? Spaccata Mmh E' andata un tessuto Ah no Alla Alla Ah E' andata un tessuto Chi è che ha sparato? Io Io Accidenti a te Sperare al corpo Dopo il cicchino si è girato all'improvviso È stata per poco No 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 arrivo 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 guarisci Dio è uno qui non sta arrestando uno ma forse avete cure? qui sotto il cielo io qui sotto c'è un po' di tutta non volevo questo non volevo questo ok volevo questo arrivo arrivo ok anch'io ho il cecchino qui c'è un altro i colpi no come no mi servono i colpi ci sono no oddio no 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 sotto sotto ricorsa ricorsa bui è parecchia lunga ah si andate sotto è parecchia è parecchia dai ce la faccio no no l'acqua no è parecchia è parecchia che è parecchia è parecchia ma è parecchia è parecchia è parecchia un po' più un po' più lunga la tempesta no eh è parecchia eh allora eh eh c'è poco da fare fa un po' crepo no un crepato eh non crepati pare facile io ho incastrato madonna all'orso no 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 non andare avanti madonna santa l'orso maggiore che viene mutilato mamma cazzo assagola sali macchina sali macchina sali macchina hai fermatovi voi io voglio quella vita no che palle sai sei rivolto soltanto te sono un settimo mi sa magari stavo in macchina li mettevo sotto no no non li puoi mettere sotto anzi li imbalzano che che sfida c'è poco da fare non posso fare qui niente a me è come cosve se li puoi schiacciare eh no eh no che che palle dai siamo si confida in te lasci le bande si si 4 team non sono interi no 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 quando messaggio a un amico chiamano no 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 guarda però c'è di palla, sono 40 punti male presi subito forzie arrivo è morto, ho paura c***a madonna occhio io ci volevo che io fossi da quanta vieni dove siete? io sono le nostre colpa, si vienete qui ok, affrodite puttana eh, buona ah, sarebbe troppo tardi no, si, con l'altro erano i due io uno l'ho battuto ma con l'altro l'ho fatto eh, vabbè salute ma che guarda mettilo nel video perchè lo voglio sentire com'è? mettilo nel video perchè lo voglio sentire ok basta che non mi denunciate per violazione della privacy c***ate simile eh eh oh oh bastarda afrodite puttana non c'è mai un lanciamissile quanto serve c***à c***o c***o ce n'è uno solo ma s***o io scendo lì sempre in arena con le tornei se anch'io esatto esatto scendo lì o sennò scendo uno e l'altro esatto dove scende meno via poi ne fallo un torneco non vado a farlo di te nico eh oggi c'era lo so lo so se quell'altro veniva vabbè ormai tornei a moto si fanno la prossima stagione vesti tanto ora mi devo abituar qui senza la mira assistita io mi avevo abituato a modificare quindi niente non c'è il paura la paura la realtà no non c'è qualche arma mi farebbe comodo non dobbiamo andare dove cacchio si trovano più tale chi è questa mia buono un'altra cosa è che abituato tutti nella stessa casa scusate vieni quanto paghi si ho trovato cuoccio splash dietro la pulenza ti raggiungo aspetta prima troviamo qualche roba aspettiamo 6 cittadini e di scappare ora si ma serve una salute dai 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 lì andiamo 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 vabbè tanto siamo arrivati e non ci sa mai la taglia aiuta 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 l'altro gli altri nooo tutto va nooo non c'ho più materiali l'ultimo è bianco arrivo che ma ma l'ho preso e non gli ha levato niente ma dai io quando l'ho levato 60 era bianco l'ho preso in testa non gli ha fatto niente una cosa certa è che ti ritengo questo si chiama patata taglierete per un coltello affilato pezzi di vostra famiglia e non è tutto il mio nome è richard benson pezzi di viaia di anni più tardi giuseppe simone andò in america allo scopo di avere rapporti sessuali con maria maddalena vieni nel salento per fare sesso come fai a rifiutare il mio uccello monella 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 sei una monella quando ti pare c'è un tizio c'è un tizio dove cosa stavo scendendo io stavo verso la mia sinistra ma non c'è più però io arrivo come si trova il cane eccolo 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 vieni vieni hai trovato si 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 guardalo guardalo un po' certo buongiorno 142 edice o te l'ho di là un po' certo è che ti trovo a spedare comunque non vuole dire la tua faccia di due ma 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 vedermi vieni veniti a rinni battute buono a rinna sono un forno anch'io c'è il bussolo il vero l'antenda fermi barili di bella buono fammi spaccare sto muletto perchè ho brutti ricordi aspettiamo il mato vai muoviti sento pieno anch'io mi riguardo se pesco qualcosa da portarmi dietro ok io mi trovo buone da pesca ecco mi arriva anche a me c'è un solo che avete preso la moneta ma c'è la moneta brutta di livello la moneta dov'è? io sono io arrivo io sono se l'avete presa non lo so io non l'ho presa non l'ho presa non l'ho presa non l'ho presa oh oh compagnia no mi era venuto un bug strano ah no dove compagnia? non lo so ho visto il cosetto rosso pensavo fosse no mi era venuto un bug strano che ha venuto un bug strano che è? tocca a dove? senza regola occhio dove? zip up 25 bianca mamma mia l'ho ucciso o io lo vado a rincuorre e anche io lo mi sono andato verso di lui allora siamo... guarda... starò rincarare che fa che sei? dai 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 da dove andai? eccolo la vittiquattro bianco la fai da te e te la si viene? si si no ce la faccio allora aspetta lì sono a board safe lascia aspetta ma dov'è? ma ma è... ninja è una tartaruga ninja ma la sta paura no no invece è ma un piromane è ma un piromane boh sta dando un po' a tutte adesso altra cassa guarda pezzo di merda dove sei? porta guarda... e ti avviso i tuoi rotti saranno pubblici altra... non ha fatto la grada l'ultimo po' altra gente eh di boh da te per ora no 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 non da me li sento sparare si vedete anche io sono per in là ci sono le guardie che non sono attive sto arrivando eh si vabbè noi siamo qui fermi non andare tanto avanti e poi ci sono colpi piccoli se mi interessa eccolo si ma non venite in casa dove? qui infatti ora vanno le guardie vede eccoli la è passato che vado lo scuro bom morto e vai ora sparano a noi però eeeh andiamo verso lo senti vai vai altra compagnia bianco eh sparateli sparateli no no scherzo scherzo scenerà bravo quella è avuta dio bello dio padre cacchio madonna vuoi arrivare la cittadonna voglio no chi è stato? dov'è? sshh allora uno davanti e uno dietro infami attento attento c'è son sul tetto eh un po' di merda se sto faccio ci provo si e beh siamo a fatto da lui che c'hai? ciao ti prego un'ottima mira il nostro culo dipende da te dai caccia ce ne è due una decina che stai suon'attacce eh arriva questa né cappuccetto rosa l'albero di natale caccia 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 che schifo comunque dopo metto anche Samu nel gruppo ok qua c'è troppa gente si si va bene va bene troppa troppa gente la cosa non mi piace la cosa non mi piace Deborah oi? noi sa il gruppettino io lui io sa il vento con i tornei poi c'è quello con l'altro tipo normale la cosa non mi piace troppa gente caclying cacchio c'è un marshmallow assassino eh noto go guannato marshmallow questa me la paghi Appena mi riprendo, ti spedisco direttamente nel Tartaro. Dov'è Samu? No, io so... Samu è deceduto. Dove mi apriate la schera? Bravo, eh. Che gente, madonna, il d'orso maggiore. Il nome di canico è l'ho. Balla mia, c'ho a questo bè. No, bocchimina. Caproia. Guarda quest'altro appiccone, te. Guarda me l'altro. Ma Gianna, è scinghiale. Tu dove scappare, spacca finestra, mangio minestra. Dio, scinghiale in un minuto. Io voglio anche farlo, furgone me lo vuoi. Oddio. Tu non scappare da me, spacca vetro, entro da retro. Ciappa la, 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 la bomba è uguale, girati, gira. Eh, sì, vabbè, vedete, aspetta, posso... Ti frigo tutta la roba. Sbacco famiglia, mazzo bottiglia. Beh, grazie per la compagnia. Salutiamo, ballando. Ovvio. Vai che dire gente, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto. Ringrazio tutte le persone che hanno giocato insieme a me. E se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. In descrizione troverete tutti quanti i link dove potete contattarmi e insieme il link di Telegram YouTube adesso si diventa. Per il momento è tutto. Ado vi saluta. A presto, miei piccoli anime dei decessi. Ciao. 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 Ciao.